Toccò agli Alpini, come era giusto, la fervente e lieta fatica di rimettere al mondo il vecchio ponte. Era il 1947 e come testimonia, questo prezioso documento dell'Istituto Luce, furono le penne nere a mettere mano al ponte distrutto durante il secondo conflitto mondiale. E quell'opera è giunta fino ad oggi. Dovrebbero dare in mano forse di nuovo agli Alpini e forse il problema del ponte sarebbe risolto. Nel 2017 si apre però un nuovo capitolo, la ristrutturazione e apriti cielo. Mi meraviglio che il sindaco sulla sua giunta, con questa impresa che di fatti sono molto scettico e di fatti si sta vedendo, non porteranno a termine il lavoro questi qua. Il signor Roberto Verin ogni anno nuota sotto il famoso ponte per recuperare bicchieri soprattutto e immondizia. Ma questa volta ad estare la sua attenzione è stata la tenuta del manufatto. È rimasto sbalordito, le condizioni sono pessime. È sempre peggiorato, sta sempre cedendo di più. Lei quindi ritenessi anche un po' pericoloso il ponte in questo momento? Beh, pericoloso no, perché l'hanno ancorato qua e là. Certamente ha fatto un cedimento qua negli ultimi due anni, una cosa proprio incredibile. Non pensavo che cedesse in quella maniera là. I palli portanti, quelli principali, sono ancora buoni, però tutto il resto delle strutture sotto è tutto consumato completamente. Cosa si augura? Mi auguro che ci mettono le mani in fretta. È arrivato il momento di agire, affrontare il problema di petto senza esitazione. Qui ci si gioca la reputazione di un intero territorio. Noi di Rete Veneta lo chiediamo con forza, facendoci portavoce di tutti i cittadini bassanesi, di chi ama il ponte. I lavori devono partire.